Calcio in Serie D, Gela e San Cataldese proseguono la preparazione in vista del derby di domenica 18 marzo al Vincenzo Presti. I bianco-blu puntano alla zona play-off, i verdi-amaranto sono a caccia di punti per chiudere al più presto il discorso salvezza. Nei quartieri alti è lotta per il primato tra Troina, Vibbonese e Nocerina, tre squadre nel volgere di un solo punto. In eccellenza, domenica alle ore 15, il Mussomeli sarà impegnato al Dino Liotta di Licata. Di fronte si ritroveranno i gialloblu licatesi che aspirano alla promozione in Serie D e i rosso-blu mussomelesi che lottano per la permanenza nella categoria. L'altra formazione nissena, l'atletico Campofranco, ospiterà il Monreale in un confronto per la salvezza che si preannuncia tirato e combattuto. Le altre partite, Casteldaccia-Alcamo, Parmonval-Mazzara, Canicaticus-Palermo, Marsala-Camarat, Caccamo-Dattilo, Profavara-Castelbuono. Grazie a tutti.